Bentornati! Allora, che cosa possiamo dire di questo The Phantom di Opera che ho visto ieri sera? Allora, innanzitutto, come avevo già preannunciato nel video precedente in cui vi illustravo otto buone ragioni per essere dei fan di questo spettacolo, innanzitutto io non ho alcun rapporto col teatro, il biglietto me lo sono pagato io e quindi insomma tutto quello che dirò è esclusivamente la mia indipendente opinione a riguardo. Partendo dal concetto che The Phantom di Opera è non solo il mio musico preferito, ma uno spettacolo a cui sono particolarmente legato per tante ragioni anche personali che a voi non interessano. Allora, foghiamo innanzitutto un dubbio, perché era lo stesso dubbio che avevo io fino a ieri sera insomma. Se vi aspettate di vedere lo stesso spettacolo, meglio, lo stesso allestimento che avete visto a Londra o New York, rimarrete delusi. Perché questo è un allestimento diverso. Diverso non vuol dire necessariamente peggiore, ha come dire punti di forza e punti di debolezza, però vedete il problema è che su uno spettacolo del genere, come dire, la filosofia che c'è sempre stato dietro uno spettacolo del genere era che tu The Phantom di Opera, ovunque lo vedessi, come vedessi a Londra, a New York, a Tokyo, a Basilea o ovunque, vedevi lo stesso spettacolo, stesse scene, stessi costumi, stesso allestimento, stesse luci, con gli attori teoricamente che avrebbero potuto essere intercambiabili, avresti potuto prendere Madame Giry da Londra e metterla senza prove a fare Madame Giry a New York e avrebbe funzionato tutto perfettamente bene insomma. Quindi questa era la filosofia che c'era dietro e che c'è ancora dietro. Per certi versi questo genere di spettacolo, questo genere di musical, è in un certo senso simile a un film. Se tu dici ho visto Star Wars, hai visto Star Wars di Gianluca, quello lì, non è che hai visto la versione che ha fatto Vito Lorè per i fatti suoi da un'altra parte, insomma. Star Wars, ecco la roba lì. E The Phantom di Opera, come i grandi musical inglesi e americani, sono sempre stati basati su questo principio. Quindi lo spettacolo era quello. Per cui fare un allestimento diverso ha comunque una serie di rischi. E ora li vediamo. Allora, la principale critica che posso fare a questo spettacolo è che evidentemente è uno spettacolo che ha bisogno di essere rodato. Nella prima di ieri, ieri sera, ci sono state diverse imprecisioni tecniche. Non tanto dal punto di vista musicale o vocale, insomma, che è stato abbastanza buono, ma dal punto di vista proprio tecnico-scenico, dal punto di vista del puntamento delle luci, dal punto di vista di certi movimenti scenici, dal punto di vista di alcuni problemi con le scenografie. In più, l'errore lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, insomma, nell'opera, vale per l'opera, ci mancherebbe, vale naturalmente anche per il musical, un spettacolo estremamente compresso ed estremamente difficile da portare in scena. In più, c'è stato proprio un momento in cui, secondo me, c'è stato palesemente un errore, cioè la scena in cui Bouquet, l'attrezzista, cade impiccato e generalmente questa cosa accade in piena vista, insomma, perché dovrebbe essere un momento di spavento ed è quello che fa interrompere lo spettacolo all'interno dello spettacolo, cioè l'opera che si sta rappresentando all'interno del musical. E questa cosa non si è vista. Io che ero in quarta fila l'ho visto che c'era Bouquet, insomma, dietro col capio al collo, ma non ho visto nessuno penzolare. Credo che sia stato proprio palesemente un errore, insomma, ecco, per un problema tecnico non è finito in scena, insomma. Ecco, e diciamo, e qui c'è un altro problema, perché innanzitutto questo spettacolo comunque aveva fatto già diverse recite, oltre a un lungo periodo di prova, aveva fatto comunque diverse recite di rodaggio a Trieste lo scorso luglio. E il problema è che chi, come mi è appassionato di musical e ne ha visti tanti a Londra o New York, è abituato a uno spettacolo tecnicamente perfetto, ineccepibile, può piacere, è un piacere, sono serate in cui ci sarà quel quid in più di emotività che può darti il performer, e quelle serate in cui quel quid in più non ci sarà, in cui uno sarà più in forma o meno in forma, ma lo spettacolo dal punto di vista tecnico è impeccabile, è un film, immaginatevi un film, visto a teatro, quindi un film fatto dal vivo, diciamo così. Lo spettacolo che ho visto ieri non è stato un spettacolo impeccabile, ripeto, dal punto di vista puramente tecnico e dal punto di vista scenico, ecco, diciamo così. Altra cosa che non mi è piaciuta tantissimo è stato il fatto che, io lo so che insomma, che anche quando mi era presentato a Londra non ha un'orchestra sterminata, però si era parlato, avevo letto in diversi articoli, di un, non siamo, di 18 musicisti, che già comunque sono un pochettini, in realtà i musicisti erano 14. Ora, è vero che con tre tastiere che quindi, come dire, sopperivano molto, soprattutto alla ciccia, no? Che serve in tanti punti dove dovrebbe, dove ci dovrebbe essere una grande orchestra. Quindi è vero che le sopperivano bene, è vero che esattamente come succede anche a Londra e New York, alcune parti sono registrate, sono fatte su base, insomma. Piccole cose, ma non ci sono. Per cui, insomma, da questo punto di vista niente di nuovo e niente di cui scandalizzarsi. Però, insomma, secondo me fai uno spettacolo del genere, una produzione del genere, con un costo di un biglietto importante, perché stai assistendo comunque a uno spettacolo grande, nel più grande teatro di Milano, insomma, eccetera, eccetera, con una buca gigantesca. Secondo me un'orchestra un po' più corposa ci stava. In certi punti io ho sentito, come dire, la mancanza di un po' di supporto sotto. Poi, insomma, la performance dei musicisti, il compresso è stato buono, insomma, quindi c'è stato qualche piccolo problema anche di audio con la regia, con la regia, col mixer, insomma, per cui ribadisco, nel complesso l'impressione generale è di un spettacolo che deve essere ancora meglio rodato. E, ripeto, devo dire, insomma, che qualche sporcizia non me l'aspetto se vado a vedere uno spettacolo del genere. Altra cosa che mi ha un po' stupito, in questo però la produzione non c'entra niente, naturalmente, è che il teatro era pieno, era molto pieno, ma non era strapieno, non era tutto esaurito. Questa cosa un po' mi ha stupito e devo dire, insomma, che data l'importanza internazionale dello spettacolo, eccetera, eccetera, mi sarei aspettato che il pubblico avesse strariempito ogni ordine di posto, insomma, il teatro, invece, insomma, il teatro era pieno, era molto pieno, ma non sold out. Per quanto riguarda invece l'analisi dei vari compartimenti dello spettacolo, allora, scene e luci. Le scene nel complesso belle, ripeto, diverse, l'allestimento è diverso da quello che c'è a Londra, dallo spettacolo che potreste aver visto a Londra o a New York. In certi punti io ho sentito la mancanza della scenografia originale, in altri francamente no. Per esempio, la ricostruzione del sotterraneo dove vive The Phantom è molto bella, forse perfino più bella di quella originale, per certi versi. La barca l'hanno risolta abbastanza bene, ci sono tanti cambi di scena, la scenografia è basata principalmente su una struttura mobile, girevole, insomma, che fa spesso cambiare la scenografia in questa maniera, tutt'altro che nuova, però nel complesso efficace, molto bella la scena dello specchio, in cui lui esce dallo specchio e lei entra nello specchio per seguirlo nei sotterranei del teatro, insomma, bello l'allestimento di Masquerade, insomma, nel complesso, devo dire, le scene belle. L'unica cosa che ho trovato, che proprio ho sentito mancare e che ho trovato francamente anche imperdonabile è che non c'è la scena del lampadario. E questa cosa che è talmente importante nella storia e nell'allestimento dello spettacolo di Londra, questo veramente mi è mancato, cioè, lì cosa hanno fatto praticamente? Nel momento in cui il lampadario crolla, dovrebbe crollare, lì hanno fatto vedere lui che taglia, diciamo così, il filo del candelabro e poi con un effetto luci, ovviamente il candelabro era, il lampadario era fermo, e le luci, la scena andava verso l'alto, non so se avete visto le Miserables, una cosa simile al suicidio di Javert, in cui lui si butta dal ponte, la talia è fermo e il ponte e tutto il resto della scenografia va su, insomma, quindi visivamente. Però, come dire, l'espediente tecnico è lo stesso, la resa è stata fatta decisamente con meno efficacia. Poi dal punto di vista delle scene, non mi è piaciuta la scelta di mettere ai lati del palco dei palchi finti, che io pensavo che sarebbero stati utilizzati per il Box 5 per una serie di altre scene in cui i personaggi sono affacciati al palco del teatro che c'è sulla scena. Invece in realtà erano proprio finti, erano fatti evidentemente solo per restringere la larghezza del palco, perché ovviamente il Tatero Cimboldi ha un palco molto grande, e anche lì, insomma, ti trovi un palco così grande e lo restringi, insomma, mi sembra un po' una sorta di autocastrazione. Allora, e andiamo alla regia. Per approcciare la regia, una regia praticamente nuova, perché vi ho detto, mentre di Traviata potete trovare 500 allestimenti diversi del mondo, con una regia diversa, con un cast diverso, con i costumi, le scene, gli effetti, tutto quello che vi pare completamente diversi, la regia generalmente di uno spettacolo del genere è abbastanza standardizzata. Il regista qui ha deciso di fare delle scelte, in certi casi anche molto diverse, non tutte brutte, anzi, qualcuna mi è piaciuta, però bisogna dire che per approcciarsi comunque a uno spettacolo che ne ho visto 140 milioni, oltre 140 milioni di spettatori nel mondo e che hanno veramente un'idea abbastanza standardizzata della regia, approcciarsi e fare una regia diversa devi essere molto coraggioso e anche un po' incosciente magari. Quindi nel complesso la regia mi è piaciuta, non vi dirò che mi ha fatto fare scomposti salti di gioia. Nel complesso funziona, ci sono alcune trovate sceniche anche molto efficaci, in particolare quelle in cui i personaggi appaiono e scompaiono da una parte o dall'altra del palco, oppure molto bella la scena in cui The Phantom ma appare dietro Cristini. Quando lei ha finito di cantare Wishing You Were Somehow Here Again, lui proprio appare dal nulla, questo è molto bello, un po' come uno spettacolo generale di Londra, non so se vi ricordate, lui appariva, si staccava dal monumento funebre, era un effetto molto bello e questo devo dire che è stato reso abbastanza bene. Per cui è chiaro che tutti noi che l'abbiamo visto tante volte siamo forse probabilmente un po' condizionati e quindi qualunque altra cosa poi vediamo diversa, ci suona un po' strano. Nel complesso io credo che la regia sia stata sufficiente, è comunque una regia estremamente impegnativa dal punto di vista della messa in scena, però se tu ti metti a suonare la terza di Rachmaninoff si presume che tu sia un pianista di un certo livello tecnico, capace di affrontare la partitura che hai scelto. Cosa non mi è piaciuto invece della regia? Alcune scelte sceniche fondamentalmente. In particolare del secondo atto in cui ci sono alcune scelte che francamente non ho per niente condiviso, in un certo punto The Phantom si butta tipo Tarzan con una corda da una parte all'altra del palco, insomma quello non mi è piaciuto particolarmente, non mi è piaciuta come hanno realizzato quando Raul viene impiccato con il lasso perché praticamente lì dovrebbe essere appena appena in punta di piedi con questo laccio che lo stringe dal collo e il prigioniero in questa maniera qui praticamente l'hanno veramente impiccato a mezz'aria praticamente, quindi vedrai poi questo povero Cristo che cantava impiccato, secondo me non rendeva scenicamente. Poi per esempio il finale l'hanno cambiato quando Raul e Cristina vanno via che dovrebbero andare via per una scala, per un... Invece li hanno fatti andare via in barca ci poteva anche stare se non fosse per il fatto che lei poi torni indietro e ridagli l'anello, quindi come è tornata a nuoto da questo passaggio, ecco non è chiaro. Altra sporcizia che c'è stata proprio in questa scena, nel far andare fuori la barca, nella scena finale, la barca ha colpito il letto che c'era, quindi a riprova di alcuni meccanismi che non sono stati abbastanza provati evidentemente. E a questo proposito invece del trono, insomma, della sedia che c'è nel sotterraneo dove vive The Phantom, gli ha messo un letto, una specie letto baldacchino, che è stata una scelta veramente brutta, devo dire la verità, brutta in sé, quando l'ho visto ho detto ma che ci fa il letto lì? Insomma, a meno che non abbiano intenzioni di scenare un amplesso, non si capiva veramente quale fosse la funzione del letto. Ancora più brutta, quando poi ho capito a cosa serviva, cioè nella scena finale dello spettacolo di Londra, The Phantom si siede su quella specie di trono che ha, si copre con un telo, con un lenzuolo, e poi quando va lì a scoprirlo, lui è scomparso. Qui c'è la stessa cosa, però sul letto, quindi si vede che questo qua che si sdraia sul letto, si copre con il lenzuolo, in maniera anche non particolarmente fluida, devo dire, non particolarmente erodata, anche questa, e poi scompare con un trucco tipico di molti maghi, scompare dal letto, ma veramente brutto. Oltretutto anche questa gestita male, perché comunque praticamente ora che lui finisce di sistemarsi sotto il lenzuolo, praticamente quelli che lo stanno cercando sono già tutti in scena, quindi non si capisce perché non lo vadano a catturare, sono lì che si guardano intorno, ecco, questa cosa qui brutta, 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 brutta. Poi altre cose che non ho capito, per esempio, quando nel secondo atto si sta organizzando la cattura, la cattura di The Phantom, c'è una sorta di effetto surround che si sente quando andate a vederlo a Londra, per cui il fantasma dice che mi cercate, I'm here, I'm here, I'm here, I'm here, e quindi si sente I'm here, si sente la voce di là, poi si sente la voce qua sotto, poi si sente la voce dietro, poi si sente la voce sopra, che è bello perché insomma l'idea, mi volete catturare ma sono qui, no, sono qui, no, sono qui, no, sono qui, insomma, è una sorta di Dolby surround ante l'itteram che è molto bello da vedere, invece qui praticamente tutti i suoni venivano praticamente nella stessa direzione, per cui senti I'm here, I'm here, ma venivano sempre tutti dal palco, ecco, questa brutta, oltretutto vuol dire non c'è una ragione per cui non potevi mettere un paio di casse sotto le sedie del palco o al lato del palco, insomma, ecco, come dire, è un'occasione persa, ecco. poi un'altra cosa che non mi è piaciuta è in The Point of No Return che fa fare tutta una serie di movimenti quasi sensuali a Christine e in questa maniera si perde completamente il senso di quel pezzo che è il pezzo in cui lei e lui stanno interpretando un'opera che stanno mettendo in scena e lei man mano che canta si rende conto che quello che sta cantando è applicabile sia al personaggio che si sta interpretando ma è applicabile anche a se stessa quindi questo è il bello di quella scena invece in questa maniera un po' sexy viene francamente un po' buttato in vacca e arriviamo al cast allora il cast molto buono in particolare devo dire la scelta di comprimari molto bravi e direi che un plauso particolare va ad Alice Mistroni e Zoe Nocchi che hanno interpretato rispettivamente Madame Giry e Meg Giry tutte e due molto brave un plauso particolare a Meg Giry con l'aggiunta che le uniche due non italiane del cast a parte Ubaldo e Carlotta che comunque sono italiani anche nella finzione e quindi va benissimo che fossero italiani e invece queste due ragazze molto brave veramente molto brave e soprattutto recitavano con un inglese veramente impeccabile e quindi veramente brave 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 oltre a essere brave musicalmente scenicamente quindi un plauso particolare a loro tutto il resto del cast è inglese o comunque diciamo anglosassone e quindi come dire questo conferisce naturalmente un livello di recitazione e di edizione adeguato all'importanza dello spettacolo e quindi assolutamente apprezzabile la scelta di rivolgersi a un cast internazionale andando sempre più su arriviamo ai tre protagonisti Raul interpretato da Vinnie Coyle che ho trovato bravo ma senza insomma niente di che francamente devo dire che la parte di Raul è una parte un po' ingrata perché è un protagonista è uno dei tre protagonisti dell'opera che non ha una sua aria e quindi non avendo una sua aria e dovendo sempre o duettare o agli ensemble o al tutti eccetera eccetera insomma non è una parte in cui come dire un cantante si possa mettere particolarmente in luce insomma ecco però è stato bravo ha fatto bene bene il suo lavoro senza essere nulla di fenomenale mi è piaciuta invece Christine interpretata da Amelia Milo cantante italo-americana brava in una parte estremamente difficile come quella di Christine che forse è veramente la parte più più complicata di questo del cast di questo spettacolo che ha retto bene insomma secondo me è una cantante che ha ancora gli ampi margini di miglioramento ma che parte comunque da una base da una base forte molto importante quindi insomma devo dire che l'ho apprezzata e arriviamo alla fine a Ramin Karimloo che è uno dei Phantom storici di Londra insomma l'ha fatto tantissime volte a Londra ed è lui anche che ha fatto la famosa edizione del venticinquesimo edizione fatta alla Royal Albert Hall una decina di anni fa edizione sfarzosa e molto bella e qui devo dire che la prima impressione che ho avuto subito appena iniziato a cantare è che non fosse in gran forma vocalmente e quindi devo dire insomma che io ieri sera non ho assistito a una grande performance del Phantom probabilmente ripeto può darsi che non fosse al 100% della forma però devo dire insomma che un po' di delusione me l'ha data soprattutto perché ripeto io l'ho visto nell'edizione della Royal Albert Hall ed è veramente molto molto bravo invece ieri sera insomma non ci sono state come dire delle defiance vocali non state delle stecche è stata però una performance che non mi ha particolarmente colpito e cosa più grave non mi ha particolarmente emozionato e questo per chi come me è proprio un fan sfegatato di questo spettacolo è un vulnus abbastanza grosso però la mia impressione è che Ramin Karim Lu sia incappato forse in una serata non al top che cosa che succede agli esseri umani anche ai grandi artisti può succedere per cui in conclusione di questa lunga chiacchierata che cosa dirvi lo spettacolo nel complesso val la pena cioè se mi chiedeste ma lo vado a vedere o non lo vado a vedere io direi andatelo a vedere perché comunque un evento storico dal punto di vista terratale per Milano e per l'Italia sicuramente al netto di quella che era stata appunto la prima messa in scena a Trieste a luglio ma insomma come dire la prima ufficiale è stata quella di ieri sera ci sono ancora dieci giorni di recite per cui se avete la possibilità andatelo a vedere perché lo spettacolo nel suo complesso merita e sono convinto che oliato qualche meccanismo potrà essere ancora più efficace e ancora più soddisfacente per cui nel complesso un plauso all'iniziativa che ha fatto il Teatro Archibaldi insomma con un investimento veramente importante insomma perché comunque allestire un spettacolo del genere ha dei costi mostruosi ecco i costumi belli senza gridare al fenomeno francamente per cui concludendo se vi capita l'occasione andatelo a vedere l'importante è che lo guardiate con la mente aperta e senza pregiudizi perché ribadisco se invece andate cercando una riproposizione uguale dell'allestimento originale andrete incontro a una delusione se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale youtube attivate la campanella e ci vediamo al prossimo video